Le compagnie dirette sono state delle fintech antelitteram, hanno cominciato un quarto di secolo fa quando la digitalizzazione e l'eccellenza tecnica erano ancora poco conosciute. In questo lungo periodo c'è stata un po' una convergenza tra quello che è stato lo sviluppo delle compagnie dirette e quello che le compagnie tradizionali hanno importato nel loro DNA. Quindi oggi c'è una specie di convergenza e per il futuro la differenza è meno marcata. Serviamo il cliente dove il cliente vuole essere servito.